riuscite a risalire dall'inferno e penso che sia un mio preciso dovere far conoscere queste cose anche se ripeto non entro nei particolari dell'orrore ma io penso che vi sarete resi conto tutti che cosa ha significato l'incontro di oggi avrà un significato tanto più forte quanto più riuscirà a richiamare la vostra attenzione e a sollecitare la riflessione sui meccanismi che hanno reso possibili i campi di sterminio e se riusciremo a rispondere lasciamo passare un attimo ai campani